Chi aveva pensato che ci saremmo divisi? Non ci ha capito, non ha capito la forza dei progressisti italiani. E chi si diverte a provare a sfrucugliare dentro la nostra coalizione, si riposi. Noi il nostro patto l'abbiamo fatto con 3 milioni e 200 mila notai. Non abbiamo mai avuto un dubbio, noi ci siamo presentati con la nostra foto di gruppo, si presentassero gli altri con la loro foto di gruppo. Io non ho ancora visto una foto con Berlusconi, Maroni, Storacce, non ho visto una foto con Monti, Fini, Casini. La nostra coalizione sarà stabile, coesa, le loro coalizioni si frantumeranno. Credete a me!